Miei carissimi milanesi e miei carissimi milanesi bentornati e tornate qui sempre a raccontarci una storia su Milano. Milano è quella città che ha così tante storie che davvero potremmo stare qua tutti i giorni, tutte le notti e raccontarcele. Ma la cosa bella è poi queste storie raccontarle con i protagonisti. La cosa interessante di questa sera è che abbiamo qui una protagonista di una bellissima storia di un luogo che per eccellenza racconta storie perché stiamo parlando del teatro. Sapete quanto è importante il teatro a Milano? Quanto io credo che teatro e Milano siano un binomio indissolubile? Lo scopriamo stasera insieme a Factory 32. Miei carissimi milanesi ben ritrovati quindi qui e vi introduco subito la mia ospite di questa sera Valentina Pescetto direttrice e fondatrice di Factory 32. Buonasera Valentina. Buonasera, ciao a tutti. Benvenuti. Allora Factory 32, prima fuori onda scherzato diciamo un nome che ormai però è entrato un po' nel vocabolario milanese. Insomma è un brand, come dicono i milanesi quelli bravi, che comincia a farsi conoscere. Sono felice, meno male. Dire è semplicemente un teatro è sbagliato, però partiamo dalla semplicità del teatro. Assolutamente. Perché è da lì che si parte, giusto? Assolutamente. Si parte da lì. Infatti nella parola, quando ho scelto il nome di Factory 32, actor è al centro di tutto. Nella parola Factory 32, actor è in giallo proprio perché al centro di tutto sta l'attore. E quindi insomma è un teatro, facciamo programmazione teatrale di circa 12 spettacoli ogni stagione. Poi facciamo scuola di teatro, quelli per bambini, ragazzi, adulti, quindi laboratori internazionali. Quindi abbiamo proprio anche vari corsi in inglese, teatro in inglese per bambini, teatro ragazzi, tanti corsi, laboratorio attori, regia, storia del teatro. Insomma i corsi dal primo anno, dal 2018 ad oggi, sono cresciuti molto, insomma, e crescono tuttora. E poi appunto anche affitto location. Però insomma quindi è scuola di teatro, teatro, tutto quello che riguarda il teatro e l'attore sta in Factory 32. Tanto che appunto non si può dire Factory senza dire actor. Assolutamente, esatto. Parafrasando una frase di Stranger Things, faceva quasi così. Valentina, però questa storia non nasce nel 2018, nasce da lontano, nasce dalla tua passione diciamo per le arti performative, no? Assolutamente, sì. Io fin da piccola ho studiato danza classica in realtà. Quindi da piccola la mia prima, diciamo, passione è stata la danza. Poi però il mio grande sogno era proprio il palco, il recitare. Nel senso la danza non mi bastava. Quando ho conosciuto la recitazione ho trovato proprio la mia totale completezza. Nel senso proprio la recitazione mi ha dato veramente tantissimo. E quindi ho proprio il mio grande sogno era aprire uno spazio. Infatti, scusate, quando uno sogna di fare l'attore, ma adesso non sogna l'Oscar, cioè sogna l'Oscar. Invece io no. Sogna l'Oscar, non sogna di avere su un teatro. Invece no, perché sì, l'Oscar è per se stessi, non so come dire. Il teatro è per se stessi ma anche per gli altri e soprattutto per gli altri. Io sento, poi in Milano, che io non sono milanese, ma mi sento milanese. Dove sei Valentina? Sono genovese, vengo da Genova, ma vivo qua da 15 anni e sentivo proprio di voler creare qui insomma le mie radici, le mie basi e poter dare quello che a me è mancato quando io ho studiato. E quindi poter dare questo per me era una cosa importante. C'è quasi, mi sembrava, quindi un po' di rivalse quello che tu dici, ma nel senso quello che è mancato a te perché deve mancare agli altri? No, facciamo in modo che non manchi e io provo a darlo. Esatto, io ho cercato di dare questo al mio piccolo. Una nobile causa, verrebbe da dire. Tant'è che appunto nel 2018 tutto quello che era un sogno diventa invece realtà. Esatto. Com'è stato? È stato, ed è tuttora, un gran bel viaggio, nel senso che era un magazzino di tappiti. Allora innanzitutto la ricerca dello spazio è stata dura, perché trovare a Milano uno spazio giusto non è semplice. Diciamo che si chiama Fatso 32 perché è al numero 32 di Via Watt. Esattamente, e non solo, perché erano i miei anni quando ho aperto. Avevo 32 anni quando ho aperto. E quindi insomma ho voluto tenere questo 32 fisso, sempre in me, che ormai 32 anni per sempre. Sempre qua, va benissimo. Esatto. Dicevi un viaggio che è stato... Un gran bel viaggio che è iniziato... Che non è mai finito. No, assolutamente, spero mai finirà. E ho iniziato con questo magazzino di tappeti che ho ristrutturato insieme alla mia famiglia da magazzino di tappeti a teatro. E anche lì è stata veramente una bellissima esperienza perché ho potuto scegliere ogni piccolo dettaglio con una cura immensa, visto che era il mio grande sogno. E quindi ispirandomi... A parte i miei dettagli che ti chiedono i Vigili del Fuoco, l'Aronaria, l'Asno... Esatto, esatto. Subito che vado invece a tirare giù il sogno e poi c'è la realtà. Esatto, con la concretezza, esatto. Purtroppo c'è anche quello. Però vabbè... Modificare un tappetificio. Esatto, non è semplice. Ecco, nonostante quello si è andata avanti. Sì, sono andata assolutamente avanti. Quante volte hai detto, no, non vado a fare niente, scherzavo, amen. Nel primo anno. Allora, è dura, nel senso che è un viaggio, è un sogno, ma è fatto di sacrifici, è fatto di dedizione totale. Cioè, è la mia missione. Come vedi, ho qui la F di Factory 32 attaccava il collo. Un F di Fabio, invece no. Invece era fatto di questa volta. Però, insomma, croce delizia. Quindi, però, è mia grande fonte di gioia. Quindi, sì, è ovvio che ci sono delle grandi difficoltà che si affrontano ogni giorno. Però non sono mai tante quante la veramente la grande soddisfazione di vedere tutto questo realizzato. Di vedere come funziona bene. Di vedere artisti meravigliosi che calcano il palco. Di sentire la felicità di loro. E quando hai detto, ok, sta funzionando bene? Nel 22, sì. Anche perché io... Allora, a dire la verità, già la prima stagione, nel 19, funzionava molto bene. Però è la prima... Avevo appena aperto. Io ho aperto fine 18, inizio 19. Quindi era l'inizio con tutte le... Le inesperienze dell'inizio. Poi nel 2021 ho avuto il Covid. E quindi io due anni li ho fatti a casa, inventandomi qualunque cosa per stare in piedi. Creando corsi online, creando degli aperiteatri online, creando qualunque cosa, nuove collaborazioni. E mi sono stati comunque utilissimi. Lì ho veramente avuto dei momenti in cui ho pensato, ma il teatro andrà ancora? Cioè la gente andrà a teatro? Ma veramente, ecco, lì ho avuto un momento in cui ho detto, io ho appena aperto un teatro, non lo so. Cioè ho avuto veramente paura. Lì ci sono stati dei momenti di vera paura. Però sono andata avanti. E questa dedizione nel continuare ad andare avanti, credo che abbia portato frutti. C'è tanta gente proprio si è fidelizzata in quel periodo. E i frutti li sto poi davvero raccogliendo nel 22, nel 22-23. Perché ho riaperto nel 22. Quindi è giovane ancora. Chi è il pubblico di farsi del 22? Il pubblico, ma soprattutto sono giovani tra i 30, sui 30 anni, la media secondo me è sui 30, 40 anni. E' molto bassa. Sì, sì. Il teatro è una cosa per vecchi, no? Si dice che è una cosa per anziani, ci vanno gli inter-sessantenni, anche perché hanno lo sconto. No, abbiamo anche quel pubblico, ma devo dire che, non so, è anche un teatro di giovani. Sarà, non lo so, l'ho fondato io, che ho 32 anni. Cerco di attorniarmi anche le persone che collaborano con me, sono giovani della mia età o più giovani. E c'è una mentalità molto contemporanea. No, ma no, il curriculum mi sento già vecchio. Per poter darvi una mano, mi spiace. Che tipo di spettacoli fate? Prosa contemporanea. Prosa contemporanea, spesso anche testi inediti, nuove drammaturgie. Mi piace cercare di scoprire giovani talenti e anche grandissimi già professionisti affermati che però si sentono a casa in Factory 32 e che vogliono essere ospitati da Factory per le loro prime grandi anteprime. Nuovi testi e quindi per me anche questa è una bellissima cosa. Tu hai messo, diciamo, un nuovo palco a Milano in uno scenario dove però, insomma, di parchi già ce n'erano tanti. Comunque Milano ne ha tanti. E dove non deve essere facile far conoscere un nuovo palco. Com'è stato farsi conoscere? E quali sono le cose più difficili per te? Allora, non è facile, nel senso non lo è stato e non lo è, però devo dire che è venuto tutto molto naturale. Nel senso che non ho cercato di farmi conoscere, io ho fatto il mio. E sto cercando di fare il mio al massimo delle mie capacità. E quindi io credo che questo abbia fatto subito comunque sentire anche agli altri miei colleghi, perché per me sono tutti non competitor colleghi, una stima che c'è l'un l'altro. E quindi veramente non mi sono mai messa in un clima di competizione ma di alleanza. Nel senso che cerchiamo di... siamo tutti nella stessa barca. Non è facile in Italia fare cultura, fare teatro. È veramente difficile per tutti. E quindi io sono questo. E ho cercato di fare il mio massimo come cerco di fare oggi. Siamo ancora quel paese che diceva che con la cultura non si mangia? Oppure siamo migliorati un po'? È tosta, è tosta. Ma io credo che se si vuole e se lo si fa al 100%, ci si può mangiare. Il fatto di 32 non fosse stato Milano, sarebbe stato uguale, sarebbe stato diverso o non si sarebbe esistito? Sicuramente sarebbe stato diverso. Io credo che Milano sia la città perfetta per questa attività. Perché? Io amo Milano profondamente. Appunto sono genovese ma mi sento più milanese che genovese perché Milano offre tanto. Offre tanto, è un centro internazionale per la cultura. La gente comunque si muove, fa, cioè crede nel teatro, crede nella cultura, si muove per queste cose. Quindi è davvero così o è una favola che ci raccontiamo per crederci? Io ti dico, non è facile, ti dico che io ogni giorno sgumito e cerco ogni giorno di promuovere al meglio i miei spettacoli, di far venire e far conoscere sempre più factory. Però ti dico, sono ancora qui. Nonostante due anni di chiusura, nonostante il covid appena aperto, ovvio, nonostante tutti i miei sforzi, perché io faccio questo dal mattino alla notte, non penso ad altro, è veramente una missione. E quindi, meno male che dà i suoi frutti, nel senso, però non è scontato e comunque riesco a farlo sopravvivere e a farlo vivere al meglio. C'è chi sceglie gli spettacoli che vanno in scena? Tu, tutto tu, la responsabilità quindi è tua. Quindi se vedo qualcosa che non mi piace è colpa tua. Esatto, della programmazione. Ti sei pentita di qualche spettacolo che vado in cartellone? Ma no, pentita no, no. Poi ci sono scelte che fai all'inizio. Ma che cagato mi ha dato, non l'hai mai detto? Allora, il primo anno ci sono state delle inesperienze. Si può dire cagata, regia, scusate, ho detto cagata, si può dire regia. Diciamo che sicuramente, secondo me, ogni anno è cresciuto sempre più, nel senso sia il livello artistico, le proposte che si candidano. Quindi ogni anno c'è una crescita proprio alta del livello, sicuramente. Quindi sono molto più felice dalle scelte, magari dopo il Covid, perché comunque sono maturati. Allora, capito, quello che lo butto non me lo dici. Dimmi allora quello che è il più bello, l'assoluto, di cui sei stata più fiera di aver messo on stage. Ah, ma anche quello è difficilissimo. Allora, sono tutti belli, tutti quanti, ma quello è, dai, uno lo devi dire. Mamma mia, aiuto. O quello che non ti aspettavi che facesse quel successo, quello che magari avevi un po' sottovalutato, invece poi hai scoperto essere un diamante, un diamante grezzo. Allora, penso adesso a questa stagione, io di tutti gli spettacoli di questa stagione sono veramente stracontenta. Per me sono un po' di parte, però, ad esempio, audizione, audizione, ti dico, è un testo di Chiara Arrigoni che ho scoperto, dove mi hanno invitato al Teatro Menotti, era in un festival la scorsa estate, mi hanno invitato a vederlo per essere selezionati. Allora, la stagione l'ho visto, mi ha colpito tantissima, una dramaturgia nuova, cruda, forte, che ha vinto tantissimi premi, veramente tanti, lo straconsiglio. Quello per me è stata una scommessa, perché comunque è un testo forte, è un testo molto, molto crudo, ma meraviglioso, veramente un gran bel testo. Audizione di Chiara Arrigoni è il primo che subito mi giunge in mente, perché per me è stato un testo meraviglioso. Poi il Calapranzi di Arol Pinter è stata la prima produzione di Factory, quello è stato un grandissimo successo, un veramente mera, tutto esaurito sempre. Ecco, voi adesso come fate? Cioè, quanti spettacoli producete? Uno ogni stagione oppure avete... Uno ogni stagione, ma dal fine 2022, sì, perché obiettivamente... Vi siete in programma col secondo, anzi. Esatto, esatto. Quindi solo due, Brillant Traces... Allora ti faccio l'altra domanda, invece, che attiva. Lo spettacolo che avreste voluto rubare a qualcun altro? Viene in mente uno. Vabbè, adesso mi viene in mente Il Silano sulla Luna, un meraviglioso testo con Pietro De Pasquale, Spietro tra l'altro insegna anche in fact, no, rubare no, non è per me la parola, però mi piacerebbe averlo. Sai quel cantante che dice, la canzone che avevo venuto a scrivere io, ma la scritta Branduardia, sono il primo che mi è venuto in mente, non so neanche perché mi venga in mente Branduardia. Splendido. Però nel senso, no? Qual è quello spettacolo che potrebbe essere piaciuto avere? Quello è il primo che mi viene in mente, che è un monologo straordinario sul Sirano di Bergerac, fatto da un attore straordinario che è Pietro De Pascalis, ma tanti, cioè veramente adesso penso a Franco Barenti. Insegna in fact. Pietro De Pascalis insegna in fact. Non ho detto che magari... Esatto, chissà, esatto, chiederò la teatroletta. C'è un po' un interesse in questa dichiarazione che magari riusciamo a portarci al fatto. Esatto, speriamo, un meraviglioso testo. Esatto, è già in casa, infatti, infatti. Dicevi che questo viaggio è continuo, questo viaggio non si ferma mai. Quali sono le prossime tappe di questo viaggio? Allora, la primissima tappa è il 9-11 giugno, uno spettacolo che è Le Serve di Genè, un bellissimo testo e un interpretato dalla compagnia delle anime sceniche, che sono dei giovani, dei giovanissimi protagonisti che si sono candidati nella scorsa stagione e a cui ho voluto dare questa possibilità perché mi hanno colpito molto, mi sono piaciuti molto, hanno mandato del materiale artistico ottimo e quindi sono molto felice di dare questa possibilità a questa compagnia giovane, ma altrettanto proprio molto brava, molto talentuosa, secondo me. Quanti spettacoli ti vedi all'anno per poter scegliere poi quelli che vanno... Eh, allora, io apro le candidature solitamente tra marzo e aprile, chiudo la stagione, adesso la sto chiudendo la prossima stagione. Un mese c'è. Sì, io cerco di concentrare tutto, sì, 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 tum, 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 boom, boom, boom. Cattiva la presenta, no? No, per forza, no, per forza, sono i tempi perché poi cerco sempre di chiudere la stagione entro fine maggio, inizio giugno, iniziare così a avere tutto il cartellone, dare le date, contratti, tutte le varie cose e poi anche perché poi a settembre si presenta. Quindi insomma io cerco di vederli tutti concentrati tra marzo e maggio. Poi funziona, si vedono su Zoom anche adesso quelli? No, si presentano. Si va direttamente a te. Mi invitano spesso a vederli personalmente e questa è una cosa bellissima, ma anche e soprattutto ricevo tantissimo materiale sulla mia mail di direzione artistica e lì si candidano con il materiale, quindi con il video integrale, oppure trailer, scheda tecnica. E tu in Netflix non sai cosa sia, ad esempio. No, no, vedo anche questo. Non guardi mai e hai una sorta di hard disk in cui, questa sera chi vediamo? Giovanni da Brescia che ci ha mandato pure, Ludwig dall'Austria che ci manda quest'altro così. Eh sì, c'è un doppio canale. Eh perché è quello. Eh non è male, ce n'è da vedere. Però è anche bello, interessante vedere tanto bel materiale, quante proposte ci sono. Milano dicevamo, ma tanti teatri, tanti palchi. Sì. In quanto a produzione invece teatrale, come siamo messi nel milanese? Eh no, ce n'è, perché le proposte sono tantissime. Devo dire che ogni anno arrivano sempre più proposti ed è sempre più difficile fare la stagione e ogni anno io cerco di alzare la sticella, quindi comunque dico ok, non è semplice. Quindi ce n'è, ce n'è tante. Tu dicevi quanti spettacoli hai fatto all'anno? Circa tra i 10 e i 12. Che vuol dire che stai in cartellone quanti giorni? Ah solo tre. Venerdì, sabato e domenica. No, per 12, sono 12 weekend. Sì, sì. Da ottobre a maggio va la stagione. No, no, non sono pochi. Poi inserisci dentro anche tutta la scuola, da lunedì a giovedì c'è la scuola tutti i giorni. E i weekend che non sono presi dagli spettacoli in stagione sono affittati di sala, sono affitti sala. Quindi insomma, attivo 7 su 7 sempre. Eh insomma, bello. Come dicevi, ti svegli la mattina, anzi che già stai pensando a quello. Sì. Durante la notte sogni quello. Esatto. Portarti avanti. Ma insomma, come si dice, i sogni a volte sono desideri, in questo caso sono solide realtà, come diceva invece qualcun altro. Dacci un po', abbiamo visto mentre parlavamo, per chi sta avendo la versione video del nostro podcast, il sito di Factory32. Però dacci un punto le coordinate per chi non può vedere il sito. Sì. Adesso, adesso, tra l'altro, abbiamo tutta la nuova sezione, abbiamo anche la Summer School, abbiamo tutta una programmazione estiva di corsi, dedicati ai più giovani, ma anche agli adulti. E quindi per tutto luglio. E poi, dopo, gli spettacoli, tutte le varie notizie potete assolutamente trovarle sul sito di Factory32. Poi ci sono anche i contatti, potete contattarci direttamente alla mail di infochiocciola Factory32.it. Noi saremo felici di rispondervi subito. Questa adesso, prima quando parlavo di produzione milanese, soprattutto, spesso e volentieri, soprattutto i miei colleghi, giornalisti, o chi comunque non bazzica tanto nel mondo del teatro, fa sempre riferimento a un certo tipo di teatro ormai andato, diciamo, dopo Gaber, si torna sempre là, si torna, no? Siamo ancora fermi là o davvero siamo noi che siamo ciechi e non vediamo? No, secondo me c'è anche altro. Nel senso che il teatro si è evoluto e si sta evolvendo. Siamo noi giornalisti che non ci evolviamo, effettivamente. No, no. No, lo dico io stesso. C'è di tutto. Nel senso che dipende anche tanto dai teatri, secondo me. Cioè, a seconda del teatro in cui vai, c'è anche una programmazione di tipo differente. C'è quando si è insano nel 2023 sentire gente che ancora impiange il derby, non so come dire, capito? Cioè, dicono, fattene una ragione, il mondo è andato avanti. Come è appunto Milano adesso? La scena milanese? C'è tanta offerta, tantissima offerta e quindi anche... Di genere? Ma veramente di tutti i tipi, ma di tutti veramente dal cabaret alla prosa impegnata, all'opera, veramente a tutti i tipi c'è veramente tanta offerta. Cioè, io ho visto adesso anche solamente nell'app Applausi, non so se sei presente. Io sono con Factory in quest'app che raduna tutti i teatri di Milano. È una bellissima invenzione che hanno fatto sempre durante il Covid. E in quest'app siamo racchiusi circa 60-70 teatri solo di Milano. Siamo tanti, cioè siamo veramente tanti. Anche solo nella mia piccola zona, Municipio 6, dove sono io, siamo veramente già... 5, 6, 7, solo veramente una piccolissima zona di Milano. Quindi ogni weekend l'offerta è ampissima. Poi soprattutto appunto post-Covid c'è stata una grandissima, per fortuna, ripresa e voglia. Ma io credo che, non mi sa sbaglio, durante il Covid la gente un po' si è innamorata del teatro. Forse vi ha visto un po' trattati male, diciamo proprio la verità. E ha empatizzato con il teatro, no? Quando, adesso senza non me ne vogliano estetiste e compagnia bella, ma quando abbiamo visto Apri gli estetisti e non i teatri, qualche domanda ce la siamo fatta, no? Esattamente. No, no, è vero. Sicuramente ha messo una luce sui teatri, che prima non c'era. Ha fatto iniziare a vedere le nostre necessità, le nostre esigenze. Esistiamo. Cioè, c'era stato un evento Facciamo Luce sul Teatro. Era stato meraviglioso, io ho partecipato e ho acceso le mie luminarie del teatro in un anno e mezzo in cui il teatro era stato chiuso ed era una morte veramente civile vedere tutti i teatri chiusi, tutta quella programmazione ferma. Quindi sicuramente sì, c'è stato anche una... Allora, dopo la riapertura che è stata all'inizio non facile, debole, perché tutti con le mascherine, quindi anche certe persone che avevano anche paura di ritornare. E quindi non è stato un... Se giurini uno svuota uno pieno... Esatto, mamma mia! Li fai in diagonale o non li fai in diagonale... No, mamma mia! A giocare attrice invece di mettere il pubblico in sala. Esatto, su 80 posti vuol dire che ne hai neanche 40 posti, cioè con 40 posti ma ne... Solo accendere due luci e ti sei fregata l'incastra la serata. No, no, è stato veramente tosta, cioè una sfida appena aperta grandissima, però ci ha insegnato molto, secondo me, a non dare niente per scontato. Tu Valentina non fai un lavoro come tanti altri, secondo me, possiamo dirlo. Non è... Fare la direttrice di un teatro non è un lavoro come altri, soprattutto è un lavoro in cui la quota di passione credo sia veramente maggioritaria, se non totalizzante. Sicuramente. Che cosa appunto tutti i giorni, oltre alla passione, ti manda avanti e ti fa dire domani ancora perché non posso farne a meno? È proprio questa... L'incoscienza, cos'è? La passione mi muove il fuoco, ho proprio un fuoco dentro, indomabile, un fuoco immenso, una passione sfrenata per quello che faccio ed è un figlio, cioè per me è una creatura. E quindi è dedizione ogni giorno, è nutrirlo ogni giorno, è svegliarti e pensare, cioè mi commuovo solo a pensarci. È questo. Mi viene in mente allora che sei un figlio un po' adolescente a volte anche, no? Sì. Un po' ribelle. Sì, sì, sicuramente. Poi con tutte le difficoltà, perché poi faccio anche nel senso, non è solo passione e sogno, ma è anche numeri. Io tutti i giorni faccio la contabilità, odio fare la contabilità, odio fare tutte quelle parti lì, però fanno parte, cioè mi fanno anche rendere conto a che punto sono, cioè è anche importante potersi misurare con tutto, no? Nelle piccole realtà devi saper fare tutto e secondo me questa è una cosa importante, perché comunque, insomma, sai un po' proprio la situazione in cui sei. E quando ci si arrabbia quando ci si vede magari che è più grande, che potrebbe fare chissà cosa, che invece... Eh, quello mi fa venire veramente il nervoso, ma soprattutto con chi ha le potenzialità e non le sfrutta. Ecco, quello mi dà proprio fastidio, ma sia nelle persone che magari sono pigre, magari non sfruttano il loro talento, e sia magari negli spazi che hanno tante possibilità e magari non lo sfruttano. È un peccato, nel senso che proprio io cerco di sfruttare al massimo. Ho solo una sala e vorrei più spazio, perché non basta più, non basta già più una sala. Adesso vediamo, finiamo degli amici per chiamarsi che facciamo spalcare in qualche maniera. È già soppalcato. Tu sali in una, facciamo una votazione, come delle mese, prima o due o due o due. Esatto, qua bisogna. Però sì, non è facile. Non è facile appunto, Valentina, come dicevi, ma nonostante questo ogni giorno si va avanti. Assolutamente, con gioia, con grande gioia. Ricordiamo bene adesso cosa hai in programma per le prossime settimane. Allora, adesso appunto avremo le serve di Genè, quindi spettacolo bellissimo a cui vi invito a partecipare. Il 9 e 11 giugno, abbiamo ancora ultimi posti, quindi venerdì e domenica. Domenica abbiamo la doppia replica, quindi domenica pomeriggio e domenica sera. Poi abbiamo tutta la Summer School, quindi avremo un workshop dedicato all'Audition Technique, in inglese. Essendo, come vi dicevo prima, un centro molto internazionale. Audition Technique. Sì, proprio un corso, è proprio un workshop per imparare a fare i casting davanti alla telecamera. Con un bravissimo casting director spagnolo che farà questo workshop. Ma dedicato, aspetta, lo capito, dedicato agli attori che devono fare i casting? Sì. O a io che devo trovare gli attori per il mio spettacolo? Dedicato agli attori per fare i casting, esatto. Questo è dedicato proprio a loro per imparare o migliorare o affinare le loro tecniche per fare casting davanti alla camera. E questo sarà il 24 e 25 giugno. Ci sono spesso dei workshop dedicati agli attori come questo? Sì. Ce n'è. Da me è il primo. In Factory è il primo. E così internazionali non così spesso. Ce n'è magari di casting director italiani, più spesso. Io cerco di prenderli anche dall'estero. No, però dicevo, quello che può trovare un attore al Factory 32 magari è veramente anche una sorta di laboratorio in cui mettersi a imparare cose nuove. Assolutamente sì, assolutamente. Infatti abbiamo quello... Non so, a me è venuta voglia di andare e chiedere la cittadinanza al Factory 32. Cioè in questo momento chiedere... È giusto. Non so, se posso spostare la residenza lì o ci sto. Certo, benissimo. Ma che proprio ti aumenta la tarina. Non vorrei che poi dopo... E' un alto costo in più. Eh, aiuto. Non vorrei. E quindi avremo quello. Poi avremo anche tutto un workshop dedicato alla commedia americana con un altro fantastico insegnante internazionale che è David Callaghan, di fama internazionale, super bravo anche lui. Non dovrebbe chiamarlo via diversa. Eh no, esatto. David Callaghan veramente. Sono così fitto, sicuro che non è... È lui, è lui. Non è di besa la brianza. No, no, no. David Callaghan. E lui farà tutto un workshop sulla commedia. Quindi su... Proprio su un testo che si chiama... Oh mamma... L'incubo dell'attore si chiama, carinissimo. Una bellissima commedia di Christopher Duran. E quindi sarà su questo il workshop che chiuderà in uno spettacolo direttamente in factory. Quindi avremo questo, poi un summer camp dedicato ai ragazzi. Quindi insomma avremo tutta questa programmazione estiva. Quindi lo spettacolo del 9-11 giugno e la summer school. Nel frattempo abbiamo già riaperto le preiscrizioni alla scuola al prossimo anno accademico per la classe. E come funziona lì? Il corso dura un anno? Sono progennali? Come funziona? Ad ora dura un anno. Esatto. Da ottobre a giugno. Abbiamo vari corsi. Abbiamo il training dell'attore con Pietro De Pascalis. Abbiamo teatro per bambini in inglese. L'anno prossimo lo avremo anche in italiano. Poi teatro ragazzi che conduco io. I ragazzi dai 13 ai 17 anni. Poi abbiamo laboratorio attori con Alberto Liva. Un bellissimo laboratorio che è lunedì. Regia, storia del teatro. Tutto il mondo del teatro, qualunque domanda avete sul teatro, scriveteci. Speriamo di potervi dare il corso giusto che fa per voi. Quindi bambini, ragazzi, adulti. E sono aperte. Adesso già ci stanno scrivendo per le preiscrizioni per il nuovo anno. Perché poi a settembre avremo le classi aperte, le open class. Però già adesso abbiamo preiscrizioni. Comunque c'è un sito di internet, lo ricordiamolo? Assolutamente www.factory32.it Basta andare lì e avere tutte le risposte alle domande che avete. E potete trovare tutto sia sulla scuola sia sulla programmazione. Insomma, e poi ricordatevi che appunto non si può dire factory senza dire actor. C'è scritto proprio lì. Questa potrebbe essere la prossima campagna. Esatto. La campagna acquisti. Lo penserò. La campagna. La campagna. Non si può dire factory senza dire actor. Sì. Ok. Valentina, senti, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. È stato un piacere. Non volevo farti commuovere. Io sei. Ma no, è fa fatta di me. E meno male. Quello importante. Sei una buon attrice. E meno male. Spieghiamo. In realtà stanno fingendo, ma stanno recitando qui per noi. Quindi grazie Valentina anche di averci fatto un pezzo di teatro. Grazie. Ti ho visto veramente con massa, ma vuol dire che veramente abbiamo toccato il tuo bambino. E insomma, guai a chi lo tocca. Esattamente. E quindi, giustamente, da brava mamma italiana l'hai voluto difendere. Esatto, sempre. Valentina, veramente grazie mille. Grazie, grazie a te. Spero di diverti presto a teatro a questo punto. Assolutamente. È stato molto bello dire questa frase, ci si vede a teatro. Insomma, con gli anni bui che abbiamo passato, insomma, finalmente ci si può rivedere lì. Davvero, grazie. Valentina, grazie mille davvero. Grazie a te, a presto. Grazie a Valentina Pecetto, direttrice e fondatrice di Farto di 32. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Torniamo alla prossima puntata di Mecrisi Milanesi. A presto. Grazie a te, a presto. Grazie a te, a presto. Grazie a te, a presto.